E' partito il conto alla rovescia per la 37esima edizione del Palio di San Jacopo a Gallicano. Oggi questa manifestazione consiste nello sviluppare un tema e rappresentarlo nelle tre piazze del paese con recitazione, ballo e musica, il tutto arricchito dai carri allegorici che vedono anche la partecipazione dei maestri carristi di Viareggio. L'attenzione sale, i tre rioni sono quasi pronti, sono agli ultimi ritocchi che poi comunque sono quelli decisivi ma stiamo iniziando a sentire l'attenzione per il 15 e per il 25 luglio San Jacopo quando poi il cencio verrà assegnato. Saranno circa 600 coloro che saranno impegnati nel Palio contemporaneamente nelle tre piazze. Circa 200 le persone coinvolte per ogni rione, ovvero Borgo Antico, Bufali e Monticelli. Quest'anno i tre rioni hanno sviluppato in modo ovviamente differente il tema di questa edizione, il fragore del silenzio. Il nostro spettacolo parte raccontando la storia di cricket, il grillo parlante, ed è stato raccontato attraverso un musical, attraverso immagini, coreografie e scenografie, ma attraverso la voce degli attori che canteranno delle canzoni che non sono originali ma con una storia originale. Abbiamo deciso di rappresentare un tema molto attuale, importante, che è appunto quello della malattia mentale, in particolare del manicomio. Il nostro tema parte da due idee principali. La prima è l'aspirare del silenzio e la teoria che spiega come il mass media influenzano il nostro pensiero e il pensiero dell'opinione pubblica. Appuntamento quindi a sabato prossimo alle 21 quando Gallicano saluterà il ritorno del Palio dopo cinque anni di assenza.